La Franca a Balneari, chiaramente situazione molto molto critica, credo forse negli ultimi anni non si ricordano mareggiate così forti e soprattutto così vicine in poco tempo. Qui siamo a San Pietro, spieghiamo qual è la situazione, ma anche zona Maronti soprattutto, veramente tutto devastato. Sì, in una settimana mai vista in tanti anni due mareggiate il martedì e sabato e domenica mattina di forte entità e non si calmava, si è calmato domenica pomeriggio, si è calmato un pochettino, ma venti provenienti dai quadranti di sud-est e logicamente ha preso in pieno Ischia e Maronti perché non c'è protezione di scogliere. Le poche protezioni di scogliere che sono a Ischia se ne sono scese, siamo già, come tu ben sai, ho evidenziato, ci sono gli atti scritti che avevamo previsto, non pensavamo così forte, ma purtroppo per fortuna è successo a novembre, se succedeva ad aprile. Però andiamola a risolvere questo problema perché se no sono 50 famiglie a Ischia e 50 famiglie a Maronti sull'Astrico che non hanno spiagge e quindi non c'è possibilità di attività. È un'immagine turistica per Ischia che non va bene. Allora qua in televisione si parla di Venezia, 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 ma purtroppo, come hanno detto anche alcune persone di Ischia, non c'è solo Venezia. C'è tutto il nord, il centro Italia, il sud Italia che sono state maneggiate enormi. La maneggiata di sabato notte e domenica mattina ha distrutto la maggior parte degli stabilimenti balneari della costiera napoletana, ma i più danneggiati siamo noi a Ischia. Allora la cosa non è che siamo solo noi danneggiati come attività balneari, ma sono danneggiate le abitazioni che stanno lì nella zona dell'Amante, nella zona di Ischia, nella zona di Buonocore, che sono state immerse da alghe, da vento e questo mare non si calma. La forza della natura ogni anno diventa ancora più forte. Allora l'unico modo è proteggere e la protezione sono le scogliele. Il ripascimento va bene, si farà, non si farà, si stanno bisicciando chi deve fare il progetto, lo faranno, credo che si farà, però noi abbiamo chiesto un'ulteriore nota ieri e stamattina di interventi indifferibili. Indifferibili sono a somma urgenza e non c'è bisogno solo di conferenze di servizio, come fanno fuori. A me mi sembra strano che poi si erge uno da Napoli che dice no, non dovete fare questo e quell'altro, poi nella stessa zona a Casamiccio e a Cameno sono state realizzate le scogliele altissime. Allora la legge è uguale per tutti quanti, se no ci sono figli e figliastri o noi come rappresentanza non siamo rappresentati bene. La cosa positiva è che il sindaco ha chiesto la richiesta di calamità naturale, cioè la richiesta di emergenza, così vengono fatti degli interventi di urgenza, di somma urgenza. I soldi ci sono a Napoli e che fine hanno fatto non si sa, noi non possiamo andare più avanti, quindi chiediamo di intervenire su questa situazione. Più di questo non si può.